Ciao, coach. Ragazzi, come ho già detto, mi piace quello che state facendo. Mi sento come uno di voi. Non mento. Anche io ne ho passate tante nella vita e questo in molti non lo sanno o non lo capiscono. Quello che però mi ha sempre fatto andare avanti è stato il pensiero della mia famiglia. Ho escluso me stesso e tutto il resto. L'ho fatto per la mia famiglia, per mia madre, mia nonna, le mie sorelle, i miei fratelli. Era questo che mi motivava ad andare avanti e so che non è facile. Ma alla fine raccogli ciò che semini e per qualsiasi cosa, se volete venire a vedere le partite, potete contare su di me. Ditelo a coach Mosley. Sì, lo so. Lo so. Una cosa però. Quando sono entrato, mi stavate prendendo in giro. Ho visto lui come mi guardava. Sì, diceva, non voglio farlo entrare. È quello che è stato umiliato da Allen Iverson. L'ho riconosciuto. L'ho visto, l'ho visto. Sì, davvero. Gliel'ho letto in faccia. Gliel'ho letto in faccia, davvero. Veramente, è così. Ma poi è diventato allenatore, dico bene? Esatto. Laggiù c'è il del talento. Ho visto una sorta di Carl Anthony Towns. Anthony Towns. Posso avere un contratto? Ma sì, se avete bisogno di qualcosa, fateci sapere. Contate su di noi. È stato incredibile, grazie mille. Apprezzo molto. Tutti qui, ragazzi. Tutti qui con le mani. Tutti qui. Con tutta la voce che abbiamo. Famiglia 3. Uno, due, tre. Famiglia. Famiglia. Grazie a tutti.